Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e con grande piacere ospitiamo nuovamente l'amico Danilo Fabroni. Buonasera Danilo, bentornato, sei stato richiesto parecchie volte dal pubblico di questo canale, quindi bentornato, mi fa molto piacere ospitarti nuovamente in occasione dell'uscita di un tuo nuovo libro di cui parleremo questa sera. Quindi buonasera, ciao Danilo Fabroni. Buonasera Barbara, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, di Danilo Fabroni abbiamo già parlato di numerosi suoi libri, ogni suo libro è una scoperta, è una piccola gemma che contiene al suo interno altre gemme nelle note, perché sono caratteristici i libri di Danilo perché contengono moltissime note che possono offrire un ulteriore spunto di approfondimento. Abbiamo presentato il primo, qui dietro di me ce ne sono alcuni, partendo dal 68 che ha avuto anche un grandissimo successo su questo canale, poi abbiamo parlato del suo libro su Axley, che era una raccolta di lettere di Axley che svelava, non toglieva il velo a quella che poteva essere la sua vera natura. Poi abbiamo parlato di un piccolo libro dedicato a Gianni Collu, abbiamo fatto anche un video parlando di questo grande personaggio molto poliedrico, abbiamo fatto un video con Mario Iannacone e Valentino Cecchetti che potete trovare sul canale, e poi abbiamo parlato anche del suo ultimo precedente libro La superficie opaca e questa sera invece parliamo di Roberto Calasso, un enigma insoluto, il suo ultimo libro, il suo ultimo saggio. Ecco, Roberto Calasso è stato uno scrittore italiano amatissimo, seguitissimo, che ha creato attorno a sé un vero e proprio culto, un autore di culto, un cult author, si potrebbe dire. Assolutamente, a livello mondiale. A livello mondiale e è stato anche l'anima di una delle più celebri e prestigiose case editrici italiane, Adelphi. Certo. Ecco, quindi lascio immediatamente la parola a Danilo chiedendogli come prima domanda a chi ha appena pubblicato un libro, come nasce questo libro, da dove proviene la sua ispirazione e perché un libro adesso su questo autore, su Roberto Calasso. Grazie Barbara, le risposte possono essere molteplici, la prima che mi viene in mente è questa, è un po' il punto d'arrivo che sia positivo o negativo, non spetta a me a Danilo, ma spetta ovviamente, spetterà ai lettori o al lettore, di un percorso che iniziai e giustamente tu ci hai rimandato al video che avevi pubblicato per Gianni Collo. Io considero questo testo, questo studio, il punto d'arrivo di un lungo percorso che feci con lui, ma indirettamente è il frutto di un consesso, di una riunione, di un progetto, detto più semplicemente, che è accaduto attorno al 2005-2006, di cui io non fui partecipe, ma questa riunione di studiosi, di intellettuali, che ruotava appunto attorno alla figura di Gianni Collo, voleva a distanza di poco più di 10 anni, rimverdire un testo seminale che uscì attorno al 94-95, che è Gli Adelfi della dissoluzione, che come dice evidentemente il titolo, parlava della casa editrice Adelfi. Quel testo lì fece molto scalpore, grazie alla penna magnifica di Maurizio Blondet, che moltissimi conoscono, ex inviato speciale di Avvenire per tanti anni e che tiene da anni un sito, un blog molto seguito. Sempre sul pezzo, fra l'altro. Asciutamente. Sempre sul pezzo, è sempre avanti di almeno 5-10 anni. Concordo, concordo. E il progetto di queste persone era quello di dar seguito appunto agli Adelfi della dissoluzione. Io seppi di questa riunione da Collo e poi le cose diciamo sono andate avanti, sono maturate. Il progetto, sicuramente per una persona singola, era troppo vasto perché occuparsi di una casa editrice così importante, della produzione così smisurata come quella di Adelfi era sicuramente impossibile. e quindi mi sono concentrato alla figura che poi era la silloge di Adelfi, cioè al suo fondatore Roberto Calasso. Ho cercato di dare una visione alternativa, antagonista rispetto a quello che si sente, si legge in giro. Consideriamo che prima dicevamo l'autorietà mondiale della Delphi, da un altro rappresentante di Gallimard, grandissima casa editrice storica francese, fu detto che sì, sì, noi Gallimard facciamo delle cose bellissime, ma le cose che fa la Delphi sono inarrivabili, voglio dire. In effetti loro hanno riportato o portato in Italia alcuni autori che non avevano un pubblico in Italia, sono stati dei pionieri. effettivamente è una casa editrice che si è creata una sua immagine, il concetto di linea editoriale quanto mai vero e pregnante, perché i libri di Adelfi sono non solo dei libri pubblicati di autori specifici, ma sono, per utilizzare un inglesismo, un mood, sono diventati... Un stimung. Ecco, sono diventati proprio un qualcosa che caratterizza anche la nostra epoca, indubbiamente. Quindi stiamo parlando di un fenomeno editoriale di grandissimo valore. Però ti domando, perché a questo punto il sottotitolo, un enigma insoluto, qual è il mistero insoluto all'interno di questo discorso su Adelfi e sul suo fondatore Roberto Calasso? Ma anche qui ci sono, diciamo, parliamo più che di mistero, parliamo di una cosa un po' più affascinante, cioè un enigma. Perché ci sono delle cose bizzarre? Mi vorrei riferire alla tua conclusione, del tuo intervento poc'anzi, perché leggevo proprio oggi che un grande storico editor dell'industria culturale italiana affermava che Kundera e i romanzi che erano stati pubblicati prima dell'insostenibile leggerezza erano stati tutti un flop. E quando invece quest'ultimo romanzo fu pubblicato, allora era l'ultimo romanzo di Kundera, divenne un successo incredibile. Ma non solo, moltissimi autori in realtà sono stati solo riproposti dalla Adelfi, perché se uno andasse a prendere i cataloghi dell'epoca, non so, delle edizioni mediterranee o di Rusconi, tantissimi autori erano confinati, bisognerebbe dire, in quell'area politico-culturale, che era un'area maledetta, perché era un'area sospetta di fascismo, di panfascismo. Basti vedere che un esempio importantissimo è quello di Nietzsche, Nietzsche era un autore maledetto. E poi la Adelfi, diciamo, ecco, magicamente, ecco perché conta bene il termine l'enigma, come se fosse un remida, ha sdoganato questi autori, li ha portati, se non al grande successo, ma alcuni anche al grande successo, ma soprattutto li ha portati all'accettazione, all'accettazione di un pubblico, di un sentire, di un'idea, che fino allora era assolutamente proibita. Tant'è vero che l'atto fondante, incontrovertibile, che l'atto fondante della Adelfi è stata la traduzione di Nietzsche con Colli e Mazzino Montinari e Calasso dileggiava un po' diciamo questo atteggiamento. Alcuni editor di Einaudi dicevano che sì, Nietzsche ci può stare in una biblioteca, ma è meglio che stia lontano su uno scaffale impervio, non arrivabile ai ragazzi, ai bambini, per dire quanto era un autore proibito. E quindi ci troviamo di fronte a un enigma perché non si capisce come si sia svolta questa trasformazione, perché poi i testi e gli autori sono gli stessi, dalla parte maledetta a una parte che se non è stata di gran pubblico, ma sicuramente è stata accettata ed è più. Ecco perché si parla di enigma e si parla di enigma anche per un'altra ragione, che in un mondo che a parole dovrebbe accettare la diversità, il contenzioso, il contraddittorio, è un mondo relativista, è molto molto difficile trovare qualcuno che abbia fatto delle critiche a Calasso o a Delphi. C'è un'adesione, basta vedere le sinossi, le chiose, i commenti, le recensioni su Amazon, c'è praticamente un'accettazione totale. e quindi è strano che, voglio dire, si è combattuto tanto contro la presa di posizione del Vaticano, di oltretevere, e invece c'è questa entità che sembra investita di una sacralità, anche se ci sono state, se vuoi ne parliamo, alcune eccezioni. Ecco, la prima l'abbiamo già citata, diciamo, non in ordine temporale, però voglio dire, gli adelfi della dissoluzione causarono una grande reazione negativa verso quel testo, perché appunto, pubblicato da una casa editrice non conosciuta come le edizioni Ares, che sono delle edizioni tuttora esistenti, molto vicine alla CEI, ai Vescovi, insomma, oltretevere, ecco, in parole chiare. E fu, quello fu un libro diffusissimo, è vero che apparve appunto prima dei video, dei tutorial, quindi uno, se si voleva informare, doveva per forza sbattere il muso della carta stampata, però ebbe un successo e un clamore che definirei mediatico non indifferente. E se vogliamo completare il quadro e poi ti ripasso la parola, il primo vero, in ordine di tempo, diciamo, contraddittorio lo troviamo nelle pagine della rivista Rinovazio, che era una rivista promossa dal cardinale Siri di Genova, lì ci scriveva Gianni Baggett Bozzo, un intellettuale diciamo molto discusso, ma sicuramente preparatissimo, e ci scriveva purtroppo un intellettuale misconosciuto, Pierangelo Vassallo, che iniziò a, diciamo, a scrutinare, ecco, a capire, a capire, secondo il nostro parere, a capire effettivamente cosa si celasse davvero nell'operazione culturale a Delphi, e anche lui, diciamo, fu il bersaglio di spari, alzo zero, addirittura i corifei dell'industria culturale italiana lo dileggiarono, perché la moglie, mi pare, che avesse una merceria a Genova e dissero che vendeva mutande, reggiseni, eccetera, eccetera, che vuoi vedere, non era affatto vero, e non era la questione, ecco, per dire che a parte questi pochi esempi, l'oceano è tributa un'ovazione incredibile, ecco, e visto che a noi piace essere dalla parte dei perdenti, dei svantaggiati, l'abbiamo detto anche altre volte, abbiamo cercato di dare una nota stridente, una nota antagonista, magari sbagliando, ecco, ma giusto per rompere un po', diciamo, questo fronte comune, d'altra parte altri autori l'hanno fatto, leggevo di nuovo oggi che Mughini ha fatto pubblicare un libro proprio in questi giorni su personaggi controcorrente, no, Eliade, eccetera, eccetera, anche lui un personaggio che albergava nelle fila della destra culturale, quindi Rusconi di nuove edizioni mediterranee e che voglio dire è stato rivalutato a distanza di tempo, chissà, chissà se non possa essere anche il nostro testo un modo di vedere altro rispetto diciamo a quello che sappiamo sappiamo finora di Adelfi e di Calasso, tutto qua. ecco, noi stiamo praticamente cominciando a delineare quello che è il nocciolo della questione, cioè il fatto che Adelfi si sia costruita questa mitologia attorno, possiamo definirla una mitologia assolutamente l'ha detto Sgarbi l'ha detto Sgarbi anche di recente quando scusami se ti interrompo quando in occasione dello scorso anno quando si celebrò il funerale il funerale di Calasso ecco quindi una casa editrice che si è fatta mito possiamo dire con un'operazione di se vogliamo essere volgari di marketing particolarmente intelligente perché indubbiamente è superaggressivo assolutamente tu devi naturalmente se vuoi incidere nella cultura del tuo tempo oggi come oggi devi anche sapere venderti e vendere i propri prodotti è brutto dirlo per la cultura ma purtroppo viviamo in questo mondo materialista e quindi le idee vanno vendute vanno propagandate vanno veicolate quindi essendo un prodotto in fondo mainstream anche se i contenuti possono sembrare o di nicchia o comunque a volte anche anche estremi soprattutto quando analizzeremo i romanzi di Calasso ecco di fatto questo è un'operazione mainstream diventata quindi un testo antagonista è l'ideale per andare a cercare di non smitizzare proprio per il fatto di smitizzarlo non è che si fa della pura iconoclastia però si cerca di capire anche come mai questa linea editoriale questa casa editrice mitologica è così adatta per questi tempi perché poi questo secondo me è il punto centrale anche il fatto di avere recuperato degli autori tra virgolette maledetti è perché i loro scritti erano in un certo senso anticipatori di quello che è la nostra attualità e arriveremo tra breve a quello che è il discorso un po' dell'ideologia che c'è dietro del pensiero che c'è dietro soprattutto l'opera di di Calasso ecco ma inizio con questa domanda secondo te Calasso si è costruito addosso questa casa editrice oppure è la casa editrice che ha trovato in Calasso il suo testimonial il suo il suo simbolo migliore ma diciamo Calasso barra Delphi è un asilloge nel senso che non si può scendere la vicenda Roberto Calasso con la vicenda Delphi racconto un episodio Calasso da molto giovane da credo non mi ricordo molto bene ma poco più che ventenne conobbe Theodor Wiesengrund Adorno a un certo punto narrano le cronache che Adorno rispose a Calasso questo qua ha letto anche i miei libri che non ho ancora scritto per dire del grande interesse culturale che aveva Calasso mostrato sin da giovane quindi un talento assolutamente precoce anche perché veniva veniva da una famiglia coltissima addirittura un parente era stato un patron della Nuova Italia da giovane era in contatto con Bobby Baslin spenderei due parole su Bobby Baslin che da Calasso stesso fu definito un triestino taoista perché è una figura singolarmente molto simile a quella che abbiamo tentato di descrivere io per primo con i miei limiti perché non è assolutamente facile descrivere una figura come quella dell'RSA al Gianni Collo ma era un Gianni Collo mutato di segno perché uno che non ha scritto praticamente niente è vero che prevedo un commento è vero che la Delphi ha pubblicato qualcosa di Baslin ma si tratta di uno scartafaccio era uno che in realtà leggeva tantissimo in maniera bulimica era un grandissimo consulente editoriale quindi diciamo i primi i primi passi e queste sono sono definizioni di Calasso i primi passi della Delphi sono stati questi pubblicheremo soltanto i libri che ci piacciono e quindi voglio dire la casa editrice aveva celebrato i 50 anni di storia quindi il mezzo secolo pochi anni fa cioè ha soppiantato ricordavamo prima l'episodio di Nice che Enaudi che sappiamo tutti era il riferimento culturale di quegli anni in Italia Enaudi non volle accettare la pubblicazione di Nice perché era un autore maledetto era un autore sul furio e appunto la fondazione come si diceva prima la fondazione di Adelphi ha coinciso con questa opera meritoria fatta bene addirittura addirittura uno dei due curatori soggiornò all'istituto Goethe e scartabellò tutti i manoscritti originali eccetera fu un'operazione assolutamente in grande stile e degna degna di un uomo si può essere d'accordo o meno con Calasso ma di un uomo che sicuramente aveva capito tutto e riporto un parere di Gianni Collo cioè era pur su barricate totalmente opposte era godeva della stima massima di Gianni Collo e per tornare qui concludo all'enigma un enigma perché il sottotitolo suggerito tra l'altro dall'editore Nicola Baudo di Lema Press perché è azzeccato è azzeccato perché come se noi vedessimo uso questa metafora un corpo dove su un braccio su una mano ci sono degli stilemi che sono innegabilmente diciamo di fede cristiana perlomeno apparentemente di fede cristiana cioè l'epilogo la sua epifania il il funerale la sepoltura in un cimitero e sono diciamo perlomeno appaiono al di sopra di ogni di ogni dubbio ma e tra l'altro tra l'altro c'è anche un parallelismo con persone che sono state del suo ambiente per dire è notorio che Enrico Cuccia andava a messa ogni mattina il patron di Mediobanca che Raffaele Mattioli il patron della Comit volle a tutti i costi farsi seppellire in un'abbazia che ha riservato solamente la sepoltura dei monaci e da un'altra parte però noi abbiamo l'opera non solo l'opera vastissima e complicatissima di Calasson ma di tutta la Delfi e leggiamo o perlomeno sottolineiamo di nuovo questa è la nostra lettura quell'opera lì ci porta ci porta a un concetto che è quello della predazione cioè Calasso il leitmotiv di Calasso il diciamo il bordone continuo tutto quello che si che si legge nelle righe tra le righe eccetera eccetera è la stima diciamo se non l'adorazione del sacrificio cruento quindi voglio dire la predazione d'altra parte una casa editrice un autore che ha dimostrato di essere così affascinata dall'idea propugnata da Nice e non può essere un'idea un'idea cristiana quindi abbiamo da una parte per sintetizzare degli stilemi delle apparenze cristiane e da un'altra parte l'idea della predazione della volontà di potenza dell'usare le persone come moneta vivente come commodities come roba da sprecare e invece voglio dire perlomeno oltre Tevere noi dovremmo parlare e dobbiamo parlare di Caritas di Pietas di Agape di Amore dall'altra parte invece abbiamo un'erotizzazione di tutto che e concludo qua questo mio intervento che addirittura destò un'interrogazione parlamentare nei lontani anni passati da parte di un parlamentare del movimento sociale italiano e anche da un rappresentante della sinistra estrema perché Calas in una trasmissione assieme a Elemir Zolla trasmissione che si chiamava Babele molto nota di condotta da Corrado Augas dichiarò che la conoscenza ultima si poteva solo ottenere tramite lo stupro tramite la possessione e voglio dire la cosa fu oggetta si può verificare tranquillamente su Intent fu oggetta un'interrogazione parlamentare oggi non lo sarebbe più perché la società che allora iniziava a delinearsi catto comunista si è trasformata in catto adelfiana quindi paradossalmente la scomparsa di Calasso è avvenuta quando la società ormai aveva assunto tutti i caratteri adelfiani ecco forse l'enigma è finalmente la realtà ci ha fatto capire certi indizi che avevamo visto avevamo letto in certi libri quindi abbiamo capito la realtà ci sta facendo capire quello che era un po' la tendenza ultima di questi tempi dove si stava andando la direzione dove si stava andando e qui si ritorna al concetto di dissoluzione assolutamente ecco quindi il titolo del libro di Blondé il quale ha ammesso che doveva molto anche alle intuizioni di Collu e Collu ricordiamolo che assieme a Cesarano avevano scritto un libro fondamentale Apocalisse e Rivoluzione che è uscito nei primissimi anni 70 parlava già del Club di Roma parlava già di queste derive neo-maltusiane di popolazioniste di nataliste assolutamente e io invito ad andare a riscoprire questo testo perché è veramente folgorante nella sua profeticità ecco quindi torniamo al concetto di dissoluzione si stava preparando il terreno per arrivare a questa apoteosi della dissoluzione e fa parte anche della quale fa parte anche questa questa idolatria del sacrificio ma sacrificio nel senso di sacrificio di innocenti appunto e oggi come oggi qui potremmo tornare anche al tuo libro La superficie opaca sappiamo quanto sotto traccia ci siano degli indizi continuamente dell'esistenza di questo di questo mondo che cerca il sacrificio che ha bisogno del sacrificio degli innocenti per autoalimentarsi quindi ecco questo è una cosa molto interessante che non vuol dire che ci sia un intento di andare verso quella direzione specifico in una casa editrice in un autore in qualsiasi cosa però c'è uno spirito del tempo che è questo e che viene interpretato correttamente da determinati autori però questi autori possono anche influenzare secondo te oliare questa questa via verso la dissoluzione e quindi qui è interessante scoprire perché questa fascinazione per la dissoluzione che comporta appunto il principio cardine del sacrificio dell'innocenza abbiamo scoperto che il vero padre di questa di questa società era Sad assolutamente assolutamente i concetti sono quelli il possesso assoluto del corpo degli altri l'utilizzare il corpo degli altri per il proprio soddisfacimento il proprio piacere è il concerto cardine di Sad che fu intuito da Pasolini sappiamo nel suo ultimo film che non a caso solo adesso riusciamo a capire forse fino in fondo allora era inintellegibile un film come Salò adesso è chiarissimo quello che è il senso di quel film e di quell'opera ed è chiarissimo anche il senso dell'opera di Sad dell'opera intera di Sad non soltanto di quello specifico romanzo da cui era tratto il film di Pasolini quindi questo sadismo questa società sadica questo mondo sadico questo mondo che vuole che si alimenta del sacrificio del dell'innocenza scusa tu citavi prima il libro su Axley no su particolarità del libro di Axley più unica che rara come si diceva nel video è che c'erano le fonti lì non si trattava di ermeneutica di interpretazione perché erano talmente chiare le frasi che lui di suo pugno ha scritto era naturale che fosse così perché la maggior parte dei suoi scritti erano riservati a amici destinati a amici a parenti quindi era molto molto chiaro quindi è incontrovertibile diciamo la lettura che io ne ho dato e sulla scorta ovviamente di autori straniere che avevano già pubblicato senza trarne delle conclusioni ma avevano squadernato questa messa incredibile di lettere la stessa cosa diciamo ho replicato ho eseguito nel caso degli scritti di Calasso che sono stati studiati tutti e non è che c'è una o due una dozzina di frasi magari tolte dal contesto come è facile che si possa dire la tematica principale il nodo gordiano la pietra angolare la pietra miliare come la vogliamo chiamare di Calasso era il sacrificio ma per un diciamo un uditore come dicevamo prima per un seguace dei canali e di internet non serve neanche neanche leggere le opere di Calasso perché basterebbe seguire uno dei suoi tanti video che sono disponibili in rete è chiaro lo diceva lui stesso quindi il sottotitolo di Adelfi della risoluzione molte volte il sottotitolo più importante del titolo stesso di un libro strategie culturali del potere iniziatico e noi stiamo trattando una cosa del genere è come se nella faula del re nudo il re fosse andato avanti indietro privo di vestiti e pochi lo abbiano scorto in questa veste chissà magari noi ho visto che porto gli occhiali magari ho delle lenti deformanti ho visto delle cose non vere ma mi viene in mente di nuovo il sottotitolo un enigma insoluto beh un altro enigma adesso che ci penso è questo qua l'Italia dal secondo dopoguerra in poi beh lo vediamo anche anche oggi senza scendere nell'attualità è una nazione è stata sempre una nazione a sovranità limitata no questa sovranità limitata è io una definizione che ho rubato e rubo da due autori i cipriani che scrissero appunto quel libro dimostrando dimostrando diciamo purtroppo la perdita di sovranità è appunto la limitazione che abbiamo come nazione quindi il paradosso è che in questa nazione a sovranità limitata sia sotto un apice culturale che non è bisogna ribadirlo non è nostro cioè non è provinciale né nazionale è mondiale è mondiale cioè tutto il mondo ha guardato ha guardato a questa casa editrice e alle pubblicazioni di questa casa editrice quindi di nuovo come si spiega che da una parte da una parte abbiamo abbiamo non contiamo nulla e da un'altra parte abbiamo questa eccellenza e ci siamo chiesti ma non è perché perché le tematiche le linee di faglia diciamo la trama l'ordito con cui si è costruito questo tappeto sfolgorante bellissimo della casa Delphi coincidano con le strategie iniziatiche diciamo semplicemente dei poteri forti mondiali e ci viene in mente che le tematiche lo accennavi tu prima le tematiche della cabala della cricca di Davos sono perfettamente sovrapponibili alle tematiche a Delphiani forse questa è la ragione ma al di là della validità dei testi i testi sono validi lo ripetiamo siamo siamo di fronte siamo stati di fronte a un un intellettuale di caratura mondiale dove noi ci permettiamo se ci è permesso di sentire e diciamo nelle conclusioni che sono delle conclusioni da dialettica negativa tu citavi prima giustamente acutamente Donatien Alphonse Francoise Desaad e io citavo all'inizio di questo video Adorno Max Horkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo che ci svelò cosa di negativo si celasse dietro all'illuminismo includevano proprio la figura sadiana come una pietra angolare del nuovo totalitarismo diciamo che si manifestava paradossalmente in ambito dell'illuminismo che voleva scacciare ogni religiosità ogni afflato religioso ogni superstizione diciamo dalla porta ma dalla finestra stante a quello che diceva Adorno Horkheimer tutto questo rientrava sotto altre vesti dalla finestra e quindi l'enigma sta in questo si spera si spera che il testo possa in qualche modo mettere dei semplici punti interrogativi ecco delle domande tutto qua in effetti poi illuminismo l'illuminazione anche luccicare del sangue perché l'illuminismo fu un bagno di sangue Parigi era spaventoso satanico sentiva l'odore del sangue per le strade c'erano proprio dei fiumi di sangue quindi questa rivoluzione cruenta popolare fino a un certo punto perché le rivoluzioni sappiamo che sono sempre nascono sempre da piccoli gruppi che si fanno interpreti di interessi non proposti ma soprattutto scusami si interrompo dai libri dai libri anche lì dai libri comunque sono le le rivoluzioni quando si dice la rivoluzione di popolo sì il popolo interviene all'ultimo quando quando è fa comodo che intervenga per fare per fare scena però in realtà la rivoluzione è qualcosa di che scava profondamente famosa talpa che scava nella storia assolutamente e quindi questa orgia di sangue praticamente che si accompagna ad ogni rivoluzione è in linea con questa poi continuazione di della fascinazione per il sangue e per il sacrificio le rivoluzioni richiedono anche sacrificio di innocenti pensiamo ai figli dei re che non hanno molta colpa di essere figli di re che vengono scannati o fucilati quindi qui c'è proprio un sacrificio di innocenti che piaccia o no ecco un'altra cosa che che mi viene da chiederti è in in questa epoca di cultura assolutamente del del walk oddio sono ecco tu prima citavi un famoso episodio che avvenne in televisione due intellettuali del peso di da una parte Calas dall'altra Emile Zolla possano disquisire così di fare un elogio dello stupro senza che non so ci sia la rivolta delle femministe o del o comunque del di tutta questa questo mondo che già allora cominciava a stabilire quello che si poteva dire quello che non si poteva dire qui si è stabilito che una certa cultura avrebbe avuto diritto di dire qualsiasi cosa e di elogiare qualsiasi cosa questo è molto pericoloso anche perché stabilisce che io posso dire posso dire una cosa anzi se io dico la stessa cosa però non faccio parte di un certo ambiente di un certo milieu non posso dirla di fatto certo certo questa è la vera arroganza del potere supremo questa è la vera arroganza del potere supremo cioè stabilisci che c'è un clero intellettuale che ha che può anche così celebrare queste messe al contrario dove si sacrifica non sarebbe bello anche magari possiamo accennarla fare la differenza tra ne ho parlato anche con Roberto Marchesini il concetto di sacrificio in ambito cristiano e la differenza col sacrificio appunto degli innocenti per scopi che non sappiamo quali sono ma che molto spesso sono scopi di puro potere la differenza è questa pensiamo il sacrificio Cristo si sacrifica per l'uomo per tutta l'umanità qui invece il sacrificio è propiziatorio serve per per favorire anche magicamente assolutamente ma senza essere un teologo non lo so ovviamente nella maniera più assoluta ma il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo è un sacrificio che poi esigeva la sua commemorazione in maniera non cruenta attraverso il pane il vino quindi l'ostia in maniera non cruenta e voglio dire invece la posizione di Calasso era totalmente contraria cioè lui lamentava il fatto che il sacrificio cruento non si fosse più perpetuato e che diciamo la civiltà occidentale tutto l'occidente non avesse perpetuato il sacrificio perché non ci poteva essere non ci può essere che mai invece cioè società per tornare a uso questo termine che era caro al collo di quegli anni e al gioco cesarano di quegli anni senza il sacrificio e quindi voglio dire si tratta di due visioni del mondo molto ampie diciamo scandagliate minuziosamente acutamente con un periscopio a 360 gradi ma con due rotte che divergevano e divergono nella maniera più assoluta a 180 gradi cioè uno andava verso il polo nord e l'altro andava verso il polo sud quindi noi stiamo parlando assolutamente di un rubicone cioè chi sta e questo forse diciamo dovrebbe essere l'obiettivo finale diciamo del mio studio magari forse anche troppo ambizioso cioè il lettore deve essere messo in guardia che deve scegliere lui da che sponda stare non c'è una via di mezzo non ci può essere osmosi fra le due posizioni voglio dire che ne abbia detto il catto comunismo o il catto adelfismo perché purtroppo dobbiamo anche registrare che un grande cardinale come Martini è stato molto molto vicino a quelle posizioni perché sodale di Cacciari quindi voglio dire Cacciari porta Calasso eccetera eccetera quindi o si sta dalla parte della Caritas o si sta dalla parte della predazione questa voglio dire cioè è incontrovertibile voglio dire per fare un po' l'avvocato del diavolo qualcuno potrebbe dire beh però stiamo parlando di romanzi quindi la fantasia dello scrittore può anche mettere giusto di mettere in campo queste situazioni estreme e quindi non si può attribuire ad uno scrittore quello che sono i personaggi i mondi che lui in maniera fantastica traendoli dalla propria fantasia mette sulla carta questo potrebbe essere la critica non è che lui elogiasse il sacrificio ma erano semplicemente delle trovate degli spunti letterari però tu dici una cosa diversa cioè che questo però si traduce in una ideologia che sottende a tutti questi romanzi quindi non può essere un caso questo forse è un po' il punto centrale del tuo libro innanzitutto diciamo la scrittura di Calasso tanto per non fare cose semplici anche nella forma è molto problematica da definire diciamo che forse il suo unico romanzo fu il primo l'impuro folle ma tutte diciamo le altre sue manifestazioni letterarie sono in effetti una una via di mezzo non sono anche perché la forma è vaga il fuoco è un divaco sono in realtà una via di mezzo fra il romanzo e il saggio possono essere sia l'uno che l'altro ma al di là di questo innanzitutto mi viene da dire che chiunque si metta in un piedistallo al primo posto al secondo al terzo al quarto ma comunque chiunque si metta su un piedistallo è innanzitutto responsabile responsabile voglio dire di ciò che scrive perché sennò sarebbe stata diciamo totalmente vana e totalmente imbecille accusare di filonazismo le opere di Nietzsche voglio dire perché se uno legge così parlò Zaratustra non è che c'è voglio dire una dichiarazione che suggella il nazismo o la genesi del nazismo da qualsiasi opera mitopoietica dell'essere umano si ha come dire un'impressione si ha una reazione a quell'opera può essere una reazione totalmente indifferente ma può essere invece come accade moltissime volte più delle volte una suggestione cioè ci può essere comunque una reazione di rimbalzo e sicuramente l'oggetto libro la forma libro tanto è vero che Calasso ha più volte sottolineato il fatto che l'importanza di un testo sta anche nelle cose accessorie come la copertina come la ricerca grafica come la carta come il formato come la quarta di copertina eccetera eccetera c'era proprio un'adorazione dell'oggetto dell'oggetto libro e ricordavamo prima la rivoluzione francese certe idee sono state veicolate trasportate e inoculate attraverso la scrittura e la scrittura certi testi diciamo iniziatici gnostici fanno capire ci si può credere come non ci si può credere che la scrittura esercita comunque un fascino esercita una mesmerizzazione esercita un'opera di magnetizzazione rispetto rispetto a chi la vede chi la riceve e chi la chi la studia tanto nelle righe scritte quanto diciamo come si suol dire fra le righe e la mia suggestione a mia volta è che dalla Delphi traspaiono delle strategie culturali fortissime fortissime quindi è un po' quello che dicevamo tempo passato con te e con gli ascoltatori su Axley quando si leggono lì in quel caso i romanzi di Axley certo non si può mai sapere se i romanzi fossero una contestazione di un totalitarismo che stava per avvenire o era già avvenuto però voglio dire il il messaggio a un certo punto è stato disvelato dalle scritture come si diceva prima private di Axley nel caso di Calasso ci sono le sue dichiarazioni incontrovertibili voglio dire questo magnetismo che lui aveva verso il sacrificio una cosa che ha ripetuto all'infinito non è una finzione letteraria nel senso che lui perlomeno non c'è motivo da dubitare credeva in quel concetto in quei concetti e quindi voglio dire visto la notorità visto che non parliamo di una casa editrice minoritaria sconosciuta ma tutt'altro ne abbiamo già detto l'influenza come del resto testimoniano i dati di vendita tutto il seguito che ha e tra l'altro mi dimenticavo vuol dire un seguito che ha avuto e ha addirittura diciamo nel piccolo esiguo fronte della destra culturale cioè Franco Cardini fu il primo a dare lancia e resta contro le tesi di Vassalle contro le tesi di Blondet e un Cardini non è certo niente intellettuale di sinistra come del resto Sossio Giametta Marcello Veneziani Pierangelo Buttafuoco eccetera eccetera quindi voglio dire nessuno può negare che questo questo consenso sia vastissimo oceanico e quindi che ci sia come dire un'attrazione un'attrazione potentissima perché ripeto poco più di 50 anni fa la Delphi non esisteva voglio dire ha spazzato ha spazzato via quella chiesa marxista culturale che era l'Einaudi voglio dire tanto è vero che ci sono anche dei video in cui Calasso si prende gioco di Einaudi eccetera eccetera lo dice voglio dire senza mezzi termini e questo questo qua è una cosa incontrovertibile non lo dico io basta basta informarsi ecco sembra quasi che una certa letteratura e anche una certa saggistica abbiano avuto in questi ultimi 50 anni una funzione evocativa proprio nel senso operativo del termine quindi di evocare un qualcosa questo spirito del tempo doveva essere evocato purtroppo è stato evocato da mondi molto oscuri quindi alla fine questi libri alcuni di questi libri possono diventare un libro può diventare quasi un grimorio quindi un libro di evocazioni ecco e questo è il lato inquietante e oscuro perché effettivamente la nostra epoca nasce dall'influenza di determinati libri sia di un indirizzo che dell'altro si sono rivelati come dei libri una volta c'erano i libri maledetti durante l'inquisizione che venivano bruciati e addirittura i loro autori o stampatori venivano messi a rogo ecco non è che uno deve vuole demonizzare la cultura però effettivamente certe idee anche malsane che sono oggi diventate la normalità nascono da alcuni libri non non stiamo parlando specificamente di Adelphi parliamo in senso generale certo ecco è il rischio è che se questo è l'ogio del sacrificio diventa una una costante può effettivamente evocare uno spirito di accettazione del sacrificio e anche dichiarare la sua la sua ineluttabilità in effetti se siamo in un'epoca in cui si si dice che un pianeta è più importante dell'umanità che lo popola e che questa umanità può essere tranquillamente dimezzata e adesso siamo passati oltre il limite numerico del novecento erano i milioni adesso siamo passati ai miliardi so se hai notato questa cosa si parla 4 miliardi di persone devono sparire così tranquillamente come se fosse quindi abbiamo fatto un salto di qualità certo di qualità negativa ovviamente certo ecco quindi dei libri che esaltano il sacrificio del debole del vecchio del bambino del sacrificabile ecco questo è molto è molto inquietante si può benissimo fare un'analisi di perché ha tanto successo questo questo tipo di ideologia assolutamente assolutamente ma poi voglio dire non a caso Calasso aveva a stima assoluta Iveda come lui stesso ha raccontato più volte una civiltà stante a lui che non ha lasciato nonostante una tradizione secolare non ha lasciato altre testimonianze che la parola scritta cioè Machiavelli morto ovviamente da tempo ma si continua a studiare nell'università della Ivy League come fosse soprattutto in seno al movimento neoconservatore americano come fosse un faro una pietra miliare quindi noi non dobbiamo vedere il libro nella sua innegabile rudimentalità un libro alla fine della fiera è un oggetto composto da della carta imbrattata può avere la copertina di Rubens Tiziano quello che uno vuole ma alla fine è un oggetto totalmente rudimentale voglio dire eppure certi libri certe tematiche sono diventati giustamente in moltissimi casi immortali questa è la prova provata che la potenza incantatoria in senso positivo o negativo non bisogna sottovalutare l'oggetto libro o tutt'altro e neanche si vuole arrivare a bruciare i libri per carità perché c'è anche un diritto di esprimere le proprie opinioni e se cominciamo a dire questo non può essere scritto questo non può essere detto prima si parlava della cancel culture quindi del tentativo di imbrigliare addirittura di riscrivere certe certe cose per farle aderire ad un nuovo spirito del tempo questo è sbagliatissimo però non si può negare che ci siano stati e ci siano delle idee in qualche modo pericolose che vanno interpretate vanno capite e soprattutto quello che forse potrebbe salvarci è la cultura cioè avere impossessarsi degli strumenti per capire queste idee nel loro vero significato e soprattutto non prenderle alla lettera cercare di interpretarle e poterle combattere combattere in senso dialettico non in senso con la spada questo ecco è un un invito a affrontare argomenti che possono essere contrari alla propria alla propria forma mentis però con gli strumenti della cultura si possono padroneggiare è un po' come avere avere in mano dei coltelli c'è il rischio di tagliarsi però se si riesce a impugnare correttamente il coltello non ci si taglia più quindi un ruolo fondamentale della cultura ecco per concludere questo tuo libro è molto interessante perché fornisce una serie di strumenti per indagare questo straordinario fenomeno editoriale assolutamente e questo grandissima autora appunto Roberto Calasso senza cadere nell'apologia critica ma fornendo gli strumenti per capire anche gli eventuali punti oscuri gli eventuali punti contestabili di questa operazione culturale e di questo personaggio quindi un'opera la tua meritoria perché va controcorrente questo appiattimento o nella denigrazione totale o nella appunto nell'apologia a critica senza svelare ulteriormente i contenuti di questo libro che invito a leggere perché è molto agile anche nella lettura ecco lo scopo di leggere questo libro è appunto di fare questo esercizio che una volta si faceva appunto nella cosiddetta controinformazione analizzare gli autori e i fenomeni storici e culturali con la propria testa poi alla fine non è che tu imponi la tua la tua visione del mondo no 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 assolutamente anche perché come dire si inviti a leggere questi libri e a inquadrare questo fenomeno culturale nella maniera più obiettiva e certo anch'io mi sono chiesto di fronte appunto a diciamo a questa ovazione oceanica se ci potesse stare una visione antagonista giustamente come ricordava il grande scrittore Joseph Conrad l'autore è responsabile di una parte importante del libro ma il lettore è il lettore che è altresì responsabile di una buona riuscita di un libro il mio studio è un po' una riflessione a voce alta vorrebbe per dirlo molto semplicemente vorrebbe chiedere al lettore quale ruolo vuole giocare di fronte a certe opere quello della mosca ad esempio che è caduta nella tela del ragno oppure di colui che tesse la tela del ragno e quindi del ragno stesso oppure di converso di quello che vede la scena dal di fuori e capisce il gioco che sta accadendo sotto ai suoi occhi e questa è una decisione che l'autore non può sceverare è il lettore che deve decidere da che parte e con quale lente di ingrandimento vedere certe cose perché la scrittura come ci ha insegnato Roberto Calasso ha un grosso potere mesmerizzante e quindi torniamo da dove siamo partiti all'enigma che rimane tuttora insoluto ecco con questo ringrazio ringrazio Danilo Fabroni per averci regalato un'altra preziosa occasione di approfondimento di grande acutezza ricordo appunto il suo ultimo libro Roberto Calasso un enigma insoluto edito dall'Emma Press questa piccola casa editrice sartoriale come si autodeterminisce di cui abbiamo tanto bisogno abbiamo tanto bisogno di queste piccole realtà culturali che ci forniscono delle vere proprie gemme libri ben pensati e ben congegnati quindi grazie a Danilo Fabroni a voi grazie a voi a te e a tutti grazie a te per la disponibilità e invito alla lettura di questo libro e ci diamo l'appuntamento molto volentieri al prossimo incontro grazie grazie buonasera buonasera arrivederci buonasera grazie